Siamo molto soddisfatti per quanto riguarda sia la partita di ieri che la partita di oggi. Diciamo che ci siamo andati in crescendo, c'è stato un miglioramento comunque a livello difensivo, anche in attacco, eccetera. L'Unione ha dato il suo contributo, siamo riusciti a fare molti cambi. Devo dire che siamo abbastanza soddisfatti di quanto abbiamo fatto contro la Turchia. Negli ultimi anni comunque i risultati sono molto migliorati. Possiamo dire che ci siamo preparati molto bene a quello che ci aspetta, che sono le qualificazioni per i mondiali contro Israele e Portogallo e speriamo di fare bene. Le partite sono andate molto bene, soprattutto quella di oggi, abbiamo giocato molto bene, abbiamo legato molto fra di noi. Vedo questa squadra molto unita e positiva. Siamo tutte molto fiduciose per queste qualificazioni che ci aspettano. Ci aspettiamo a un pubblico grande, a Siracusa, per avere il sostegno. Grazie. 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 Grazie.